L'ispirazione di questa collezione, che si chiama Costiera, è venuta dall'idea che con Etimo potevamo fare questo stile moderno mediterraneo, ma potevamo farlo per una destinazione di yachting, un po' più tecnico, quindi una destinazione diversa del solito parco o terrazza. Ci sono in questa collezione qualche particolare, che sono più tecnici, che si legano a quest'idea del grand yachting, che è più un sogno, che è una realtà alla fine. Oltre che il yacht, l'ispirazione è la nautica, l'espressione qui con le righe, l'idea del sole, dell'acqua, del mare, ma visto dal mare più che dalla terra, quindi sulle varche. Tutte le scelte, tessuto, colori, materiali particolari, tecnici, vengono per raccontare questa storia della nautica, quindi un misto di intemporalità usando il legno, un po' di tecnicità usando l'alluminio, e questi tessuti che assomigliano ai tessuti di parasol, quindi questa idealizzazione del summer al mare. Questa collezione è un sistema con degli elementi che sono il divano due posti, il divano tre posti, la poltrona, poi ci sono anche dei tavolini. La nostra collaborazione con Etimo è iniziata un po' di anni fa, era una domanda mia. Conoscevo delle persone in una vita precedente, però ho scoperto questa idealizzazione della dolce vita mediterranea e volevo partecipare a questa storia e ho chiesto se potevo permettervi un pezzo o due e poi siamo diventati molto amici, molto collaborativi e adesso sono la terza collezione che facciamo insieme e speriamo che dura ancora un po' di tempo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!